Ciao e benvenuto anche in questa mia puntata dedicata all'allenamento. Oggi parliamo di consumo di grassi con la corsa o la camminata veloce. Ti ricordo sempre di iscriverti al mio canale se non sei ancora iscritto e di lasciarmi un bel pollice all'insù. Ma comunque oggi sono veloce, quindi quanti grassi si consumano durante una corsa o una camminata veloce. Ci viene in aiuto la formula di Arcelli, una formula molto conosciuta perché si occupa di allenamento di corsa che ci dice che per andare a determinare il consumo di grassi dobbiamo andare a vedere quanti chilometri abbiamo percorso. Quindi il tutto è sempre in relazione ai chilometri percorsi e non alla velocità con cui vai a correre. Quindi devi mettere il tuo peso, moltiplicarlo per la distanza che hai percorso e dividere il tutto per 20. Il numero che ti uscirà sarà i tuoi grammi di grassi consumati in quella seduta di allenamento. Come potrai notare, esempio se noi abbiamo un soggetto di 70 chili che si fa i suoi 5 chilometri di corsa diviso 20 ci fa 17,5 grammi di grasso. Ti accorgerai che è un numero abbastanza basso per andare a consumare un chilo di grasso che sono 1000 grammi dovrai fare tanti 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 allenamenti. Se ovviamente non hai tutto questo tempo a disposizione per andare a perdere grasso a mio avviso ci sono tanti altri sistemi più vantaggiosi che ti permettono di costruire un qualcosa che ti permetterà di consumare grassi anche a riposo. Proprio in quella situazione dove il tuo corpo consuma tanti grassi per produrre energia. Ovviamente l'attività aerobica, la corsa, la camminata veloce hanno tantissimi benefici da un punto di vista cardiocircolatorio ma se vuoi migliorare la tua composizione corporea dovrai modulare in maniera ottimale allenamento e alimentazione. Allenamento non è solo allenamento aerobico ma soprattutto allenamento muscolare. Spero di averti aiutato anche oggi, seguimi e ci vediamo nella prossima puntata. Ciao!